Citroen 2 cavalli rally, automodello radiocomandato Tamiya in scatola di montaggio in scala 1 a 10. Tamiya, nastro per mascheratura morbido, 12 mm di larghezza. Futaba, custodia per radiocomandi. Revelle, kit statico in scala 1 a 16, Porsche 928. Pratico utensile per incisioni. Colla superadesiva con marcatore UV. Sottomarino nucleare russo in scala 1 a 350. Kit in scala 1 a 9 della mitica Vespa 125 Primavera. Kit statico in scala 1 a 24, Porsche 956. Altro kit statico in scala 1 a 24, Land Rover 5Truck. Infine, kit in scala 1 a 9 del Sidecar Zundap KS 750. Altro kit in scala 1 a 500. Altro kit in scala 1 a 11 car? An tintro kit in scala 1 a 1 cm. difuze, 2 cm.